I'm the Trumpster motherfucker Per almeno per qualche giorno me la lasciano La play e il computer Comunque partiamo subito Il mio portiere è della Premier League Questa è la squadra della Premier League La raga è Loris Veramente forte Cioè io lo uso titolare È una bestia Io pensavo che non ci fosse portiere più forte di Art Però Loris lo batte Ma veramente Poi ci abbiamo I tre difensori centrali Ci abbiamo Io di solito uso Kabul Verso la sinistra Verso il centro uso Company E verso la destra Di solito uso David Luiz Poi Oppure viceversa Poi il modulo è 3-5-2 Quello della Juventus Perché ero partito all'inizio già con questo Ma poi Ho cambiato un po' per vedere qual era Migliore E alla fine sono ritornato su questo Perché Mi trovo veramente bene Poi I centrali del centro campo sono Io di solitamente Verso Cioè Di solito verso la sinistra Uso Ramirez E poi verso destra Uso Traoré E Perché veramente Sono degli centrocampisti Che corrono come dannati Poi Traoré È un pizzico Diciamo Più forte da una parte Più scarso dall'altra Perché Ramirez Scorre tanto E invece Traoré Recupera molti palloni Perciò Alla fine Contribuiscono tutti e due a fare il centrocampo giusto No? Alla fine Poi come esterno sinistra abbiamo Hazard Che Solitamente uso anche Zogobia Perché corrono tutti e due come dannati E Poi Come esterno destro Abbiamo Questi tre Di solito uso Valencia Se no c'è Lennon O c'è Wolcott E' uguale Perché corrono Tutti molto veloce In che mi è scappato un rutto E Comunque raga Ve la consiglio Perché veramente Io ero partito con questa All'inizio di FIFA 13 E rieccomi qua Alla fine con questa Perciò Poi come c'è C.O.C. C.O.I. Trequartista Uso Nasri Raga Nasri è veramente Una bestia Veloce Che di buone Un buon tiro Io ve lo consiglio Non costa neanche tanto L'ho pagato sui 30.000 mi sembra E ne vale veramente la pena Comprarlo Perciò ve lo consiglio Vivamente Perché Nella Premier League Difficilmente si trovano giocatori Con questi piti qui Però poi Dipende da voi Il vostro stile di gioco Poi Come Attacco Io Allora Come titolari Uso Vampersi E Aguero Vampersi Non pensavo che fosse così veloce Perché è veramente Mi sa che è più veloce di Aguero Poi non lo so Ci sono giorni Che è più veloce di Aguero Ci sono giorni che è più veloce Vampersi Però Dipende Vampersi c'ha un tiro Dalla madonna Raga Infatti l'ho preso anche per questo Poi l'ho preso anche per Fare sponda Perché è un bel Un bel fisico E poi Come allenatore Ci abbiamo Caputano Non mi ricordo il nome Ma fa niente Dai Comunque raga Questa qui È la squadra titolare Adesso vi faccio vedere un po' Di sostituzioni Che anche loro Fanno parte dei titolari Perché alla fine Sono tutti forti Allora Io sono ritornato alla Premier League Perché non sapevo che altre Altre Non sapevo fare altre squadre Perché Alla fine Le ho girate quasi tutte le più forti Italiana Quella tedesca E poi Cos'è che ho girato Con la spagnola Ah no con la spagnola Non l'ho fatta Però L'avevo fatta all'inizio Proprio all'inizio Non mi trovavo per niente bene Costavano tanto E facevano schifo Poi quella brasiliana Mi ha un po' sorpreso In attacco Perché faceva abbastanza schifo Da Da Come che cazzo Si chiama Da Neymar Ma aspettavo un pochino di più Dal prezzo Però Alla fine sono ritornato Sulla Premier League E devo dire che Ci resterò per molto Qua adesso La serie La inizierò con questa qui raga Per il road Two division one E E niente Questa qua raga È la mia squadra Che userò Per un bel po' su fifa Perché penso di non cambiarle più E Niente Io spero che il video vi sia piaciuto Raga Questa qui è la mia squadra Perfetta Infatti il road La incomincerò con questa Lasciate un bel like Un commento Passate dal mio canale Anzi Iscrivetevi al mio canale Passate dalla mia pagina facebook E Scusate per l'assenza raga Di questi quattro giorni Però purtroppo Mi tocca far così Non avendo le cose La scuola Vabbè La storia ormai la sapete Niente raga Ci becchiamo al prossimo video E Bella